A festeggiato anche a Gubbio i primi dieci anni di attività l'associazione musicale Ciro Scarponi, nata a Torgiano nel 2013, che nella sala ex refettorio della Biblioteca Sperelliana, su invito dell'Università della Terza Età, città di Gubbio, ha dato vita ad un apprezzato e partecipato concerto dal vivo, ispirato al capolavoro di Giuseppe Verdi, La Traviata. Lo spettacolo ha visto protagonisti gli artisti dell'associazione musicale Ciro Scarponi, il soprano Chiara Vestri nel ruolo di Violetta, il tenore Alessandro Zucchetti nelle vesti di Alfredo Germont e il baritono Manuel Massidà in quelle di Giorgio Germont. A commentare l'opera, il maestro Stefano Ragni, non è mancata, grazie all'Università della Terza Età, una pur essenziale scenografia che ha contribuito nel coinvolgere i numerosi presenti nel contesto evocato dalle musiche verdiane. Non potevamo iniziare meglio il nostro anniversario di dieci anni dalla fondazione dell'associazione musicale Ciro Scarponi di Torgiano con questo spettacolo in questa bella cornice che è la Biblioteca Spirelliana e con La Traviata, un'opera storica di Giuseppe Verdi, tratta dal romanzo di Dumas, figlio del famoso scrittore I tre moschettieri, una tragedia che è un classico della lirica italiana e che questa sera i nostri rappresentanti dell'associazione con il maestro Ragni che ha fatto da conduttore, che è entrato nell'opera sia da un punto di vista storico che sociologico, oltre che ovviamente musicale, esprimendo il genio di Verdi nel miglior modo possibile, e ai nostri cantanti, il soprano Chiara, il tenore Alessandro Zucchetti e il baritono Massida Manuel, che rispettivamente hanno interpretato Violetta, Alfredo e il padre Germonte. Grazie